E' partita ieri nella sala consigliare di Cinque Frondi l'attesa rassegna pomeriggi musicali, sei appuntamenti. Si concluderanno il 18 dicembre con uno sguardo sulla musica del passato e del presente in memoria del grande compositore italiano Gioacchino Rossini. Madrina e organizzatrice dell'evento è il maestro Cettina Nicolosi, presidente del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria e responsabile dell'orchestra di fiati di Cinque Frondi. Cinque Frondi intende omaggiare con queste sei serate musicali, questi pomeriggi musicali, il grande compositore che ha reso celebre con i suoi grandi capolavori l'Italia nel mondo e che continua a vivere, a educare i giovani attraverso le sue partiture, attraverso i suoi brani più celebri. Tra l'altro questa sera l'apertura di queste sei serate sarà curata dall'orchestra di fiati che eseguirà un medley di Rossini che appunto comprende l'Italiano in Algeria, il Guglielmo Tell, la Gazzaladra, i più famosi capolavori rossiniani. Durante le altre serate faremo una breve incursione in quella che è la letteratura jazz, un flash su quello che è la musica moderna, la musica contemporanea, con altri artisti. Poi una chicca che volevo svelare, sono 25 percussionisti che si esibiranno qui in questa sala affidati appunto alla maestria del professore Lombardo, musicisti che hanno un'età compresa dagli 11 ai 13 anni che sicuramente avrete modo di apprezzare e di ascoltare.